In questo video ti mostro come cucinare un piatto di pesce molto economico e davvero squisito. Per prima cosa togli la testa alle sardine e rimuovi le interiora. Aprile quindi a libro e rimuovi la lisca. Metti qualche cucchiaio di pan grattato in una ciotola. Aggiungi un po' di parmigiano grattugiato. Aggiungi un po' di prezzemolo tritato finemente. Aggiungi uno spicchio d'aglio tritato finemente oppure come faccio io spremuto con lo spremiaglio. Aggiungi un filo d'olio e mescola il giutto. Disponi le sardine in una placca da forno con la pelle in basso. Aggiungi con un cucchiaio il ripieno preparato in precedenza. Forma quindi dei panini disponendo le altre sardine sopra ripieno. Avvolgi ora gli involtini di sardine con la pancetta. In forno a 200 gradi per circa 15 minuti. Sforna le sardine avvolte nella pancetta e buon appetito!